La nuova Jeep Grand Cherokee si rinnova stilisticamente. Ogni allestimento presenta ora un look ancora più premium ed è riconoscibile in modo univoco. Su tutte le versioni, l'inconfondibile griglia a sette feritoie è ora più bassa, i fari sono più sottili, il fascione frontale inferiore è stato leggermente rialzato così come fenninebbia. La principale novità stilistica della nuova Jeep Grand Cherokee è rappresentata dai nuovi fari Bixeno completi di luci diurne a LED di serie su tutti gli allestimenti. Gli aggiornamenti coinvolgono anche la zona posteriore dove spiccano i nuovi gruppi ottici con illuminazione a LED, lo spoiler posteriore di maggiori dimensioni, il nuovo paraurti ed il portellone posteriore rimodellato per garantire una maggiore visibilità. I fascioni posteriori e inferiori sono ora specifici per ciascuna versione, mentre i doppi terminali di scarico sono di serie su tutte le versioni. Le novità riguardano anche il campo dell'infotainment che ora dispone del nuovo sistema di navigazione satellitare Uconnect con schermo touchscreen da 8,4 pollici e dell'inedito quadro strumenti con schermo da 7 pollici completamente personalizzabile dal guidatore. Nella parte bassa della console centrale spicca la nuova leva elettronica del cambio automatico a 8 velocità rivestita in pelle. Jeep Grand Cherokee è spinto dal brillante turbodiesel 3 litri V6 ad iniezione diretta elettronica Common Rail, dotato di tecnologia Multijet 2 e dei propulsori benzina V6 Pentastar da 3,6 litri, V8 da 5,7 litri e V8 HMI da 6,4 litri. Tutte le motorizzazioni benzina equipaggiate sul nuovo Grand Cherokee sono conformi alla normativa Euro 6. La nuova Jeep Grand Cherokee è disponibile nelle versioni Limited, Overland e SRT. L'esclusiva versione top di gamma Summit che si aggiunge ai tre allestimenti già presenti in gamma rappresenta una novità assoluta per il mercato italiano.